condividere e gioirne umanità in movimento nella prefazione al studio tuchinaia di giulivi al si legge come dissero i maestri donate senza chiedere perché a voi non è concesso altro ma se nel donare poi vedrete interesse allora allargate e donate le conoscenze ricevute in maniera che più persone possano condividere e gioirne